ragazzi che botta l'arabbia saudita cinque pere dalla squadra di casa della russia maglie verdi proprio non pervenute non scese proprio in campo madonna mia mi sono perso il primo gol perché ero a portare fuori il cane vabbè comincia proprio con una manita questo mondiale di russia con la squadra di casa che ne fa 5 all'arabbia saudita una squadra che francamente avremmo potuto battere anche noi con quel risultato quando abbiamo giocato l'amichevole quando è stato a fine maggio mi pare no o inizio giugno non mi ricordo invece era finita soltanto tutto è uno questi gli hanno dato cinque pere ma cinque pere ma cosa devo dire ragazzi un mondiale che proprio è partito con il botto non avevo mai visto niente del genere prima d'ora il primo tempo erano già sul 2 a 0 ma il secondo tempo per le per la per la per la squadra asiatica è stato un disastro veramente totale ed assoluto penso che se dobbiamo dare una valutazione si potrebbe dare 8 alla russia e 0 all'arabbia saudita ma 000 ragazzi anche questo purtroppo il calcio chissà quanti di voi avranno visto questa questa battosta incredibile subita dalle maglie verdi da quelle rosse una cosa che in una competizione europea mondiale non mi era mai capitato ma neanche nel peggiore dei miei incubi di vedere roba roba che mi lascia veramente di sasso poi vabbè però ci sono altre partite vedremo come saranno le prossime dai a partire da domani avremo partite a go go tutti i giorni fino alla finale e questo è quanto e questo è quanto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti